Quattro grandi mongolfiere gialle reggi ponte, quello sulla Tevere a Sansepolcro, una pesce d'aprile apparso alle prime luci dell'alba con un chiaro riferimento, tanto ironico quanto pungente, alla situazione del viadotto Puleto sulla E45, sotto sequestro dallo scorso gennaio e ancora chiuso al traffico pesante. I giganteschi palloni sono stati legati alle spallette del ponte lungo la Senese Aretina, a pochi metri di distanza dall'imbocco per la E45, ma non solo, all'inizio del tratto è stato anche installato un finto cartello del comune che spiega che si tratta di un'opera di messa in sicurezza. Un modo così per strappare un sorriso in questo primo aprile, ma anche per mantenere alta l'attenzione sulla questione del viadotto Puleto, la cui chiusura a camion e tir pesa ancora sull'economia del territorio e non solo. Il prossimo 4 aprile intanto ci sarà l'incidente probatorio sul viadotto con gli esperti nominati dal GIP Pier Giorgio Ponticelli, che ha incaricato il professor Claudio Modena e dalle parti. Se il primo sopralluogo sarà poi ritenuto sufficiente, ANAS potrà ultimare i lavori di sistemazione per andare così verso la tanto attesa riapertura al traffico pesante. Spetterà quindi alla perizia a valutare il livello di sicurezza della struttura. Nell'ambito dell'inchiesta, portata avanti dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, infine sono partiti 5 avvisi di garanzia per altrettanti irresponsabili ANAS. L'accusa per loro è quella di omessa manutenzione.